Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Veramente super chill loro, 1366 sopra con i danni, JJ poi torna indietro. Bala, grazie mille, grazie Elena. Attenzione, è andato giù, Juiz. Si deve spostare adesso alla settima safe. Eh, che pompata! È vero quello che ho dovuto donare i 2000 abrizz? È andato? Ma faccia bravo Razor. Grazie mille Simo, grazie di cuore, grazie mille Pado, grazie mille CR20. Grazie ragazzi, un abbraccio, grazie. C'è anche il Giovanni su TikTok che sta sbombardando rose. Ciao Thundermatt, grazie dei 5! Io io! Vai, Efesto! Oh, muoio io! Il double miss! Merda, il double miss! Errore mio! Merda! Il torneo intanto si giocherà in no build, lo avete già capito. Si gioca in solo no build, molto molto bello, molto molto carino. Ci sono, c'è un server Discord, vi ricordo, importantissimo da andare assolutamente a gioinare. Lo trovate facendo, se non ricordo male, punto esclamaccio. Eh, non ho gli alert, ragazzi, eh. Grazie mille, Nipeter! Grazie delle 500 patate! Ohio io roio io 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 io! Nipeter, gran pazzo! Oh oh! Io io io! Nipeter, gran pazzo! Cantata a cappella, meravigliosa! come vedete ragazzi come vi stavo appunto anticipando poco fa si va a giocare in solo no build quindi mi raccomando mi raccomando ragazzi entrate nel server discord ci sono dei comandi nel nostro nice facciamo l'ultima come on merda e lì stavo attaccato al lupo lo volevo buttare giù lo volevo buttare giù grazie cr20 grazie drex per l'aiuto merzia la mia faccia quando mi concentro è spettacolare perché com'è la mia faccia livello 168 faccia al bravo Ernesto a quest'ora mi sembra un po' too much andiamo a 20 minuti dalla chiusura direi che è un po' too much vamos alla playa ma sei ancora vivo non sei ancora esploso cristo dio ma io spero che esplodi stasera insieme a tua madre mamma quanto godo poi ti sborro sulla tomba figlio di puttana mamma quanto mi auguro che esplodi dio caro ma sul serio te lo auguro con tutto il cuore stai attento zio perché se domani esci di casa e ti investi un camion sei sicuro che la tua vita l'hai passata bene dimmi un po' c'hai mai pensato a sta cosa fatti che domani esce e ti investi un camion e che cazzo hai fatto nella tua vita hai passato i pomeriggi a snapparmi figa brutta storia ho detto metti non ho detto che succeda ho detto metti che domani esci e ti investi un camion figa buongiorno Lorenzo buongiorno buongiorno queste sono le cuffie che ha fatto logitech e che potrete trovare nel box di pringles sono veramente comodissime ragazzi sembra quasi di non averle addosso morbide comode belle 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 mi piacciono un casino money talk si costa money 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 gialla 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 cin cin blin blin so che gialla e nel pochi son gialla blin blin che so vede si sta lavorando non accendete quel cazzo di forno zio dai ciao spruoz saluto la tua amica fosca pls cioè please ok temi il tag penso di ci piace un giorno l'hai calciata pesante qua Ernesto qua c'è da qualificarci vabbè mi sa non sono manco qualificati ho 8 dimmi in realtà perché io ero il sesto se la dobbiamo l'ultimo quindi ecco fatto oh vi metto ormai in faccia porco dio di Ernesto 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 ha capito metto ormai addosso aaaaaaah verso verso 27 vado via vado via vado via ci posso avvicinare a me sono troppo lontano e tu no? sto arrivando però è troppo lontano 72 t45 white che ho fatto? devi busciarlo a Nettuno morto bravo morco diaz bravo cazzo Nettuno bravo morco diazze vai e andiamo intanto ringrazio ne approfitto per ringraziare Pringles e Logitech ovviamente che hanno permesso la realizzazione di questo meraviglioso torneo un format assolutamente azzeccato quello della no build il format che a tutti piace il migliore sicuramente e buongiorno buongiorno a tutti ragazzi buongiorno ciao benvenuti alla live mattutina dedicata a fort night come la va ragazzi come la va ci siamo anche oggi giovedì 13 aprile beh una giornata super interessante 20 colpi mitraglia una god call grazie ma c'è qualcosa di strano o hanno diminuito anche prima ero senza colpi strano no io non ci posso credere io non ci posso credere raga ma io non ci ma com'è possibile ma ragazzi ma io non capisco come sia possibile una cosa del genere ma ok ma non mi incazzo neanche perché se mi incazzo gli maledico la famiglia porco diaz porco diaz porco diaz ma come cazzo è possibile ma me lo spieghi ma non è possibile ma cos'è merda merda non male 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 dovremmo fare la ho detto che entra nella mia ruota delle motte raga omoto ma parca di quella puttana parca di quella puttana merda sottolineatura off tre mesi aspettano a 3 2 2 3 4 4 5 rim 6 5 5 9 11 10